13 bandiere blu, 2 lacustri, Scanno e Villalago, più un porto turistico, ma soprattutto un numero di vessilli in crescita, segno di un'attenzione sempre maggiore all'ambiente e alla sostenibilità. Le località premiate dalla FE, è vero, erano già note, però è stato giusto e bello vedere i sindaci tutti insieme, invitati dal collega di una città, Pescara, che forse più di tutte affida al vessillo blu un significato simbolico di rinascita, perché non era semplice per una città delle dimensioni di Pescara ottenere la bandiera blu e soprattutto non era semplice passare dalle stalle di qualche anno fa alle stelle attuali. 13 località abruzzese insegnate di questo riconoscimento della bandiera blu rappresentano, tra virgolette, un'inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti in cui avevamo perso qualche bandiera blu. Sicuramente un particolare valore riveste la bandiera blu di Pescara, che vorrei ricordare è l'unica città capologo di provincia insegnata di questo riconoscimento, con tutti i problemi di balneazione avuti negli anni precedenti e quindi sicuramente è una cosa importante. Pescara è il motore dell'Abruzzo e questo riconoscimento è un valore particolare. È un segnale importante per tutta la regione. La crescita di località che ottengono la bandiera blu è estremamente significativa, probabilmente di una ripresa anche in termini di sostenibilità a cui i comuni si sono di nuovo impegnati. Sono tre nuovi ingressi, tre nuove località. Certamente Pescara è molto significativa proprio in quanto città, città capoluogo, con tutta una serie di problematiche che possono avere città di grande dimensione rispetto a dei piccoli centri. Ma è un percorso che da due anni si sta facendo, perché Bandiera Blu è principalmente un percorso, un percorso che ha saputo, come dire, c'è stata da parte dell'amministrazione una visione olistica di tutte le problematiche e si sono state affrontate, così come c'è stata una grande capacità di creare la giusta collaborazione e armonia con gli operatori e la cittadinanza. Brevissimamente solo, quali sono i punti principali per arrivare ad ottenere la Bandiera Blu? Non solo il mare, evidentemente. No, la qualità delle acque di baneazione è il primo paletto di accesso, deve essere classificata come eccellente negli ultimi quattro anni, ma è la depurazione, è la gestione dei rifiuti, è la sicurezza in spiaggia, l'accessibilità, la gestione dei rifiuti, iniziative per la sostenibilità, l'educazione ambientale, sono veramente molti gli indicatori che vengono presi in esame che riguardano la gestione del territorio.